Ciao a tutti, oggi sto super carico perchè siamo su Marvel Snap, ma che mero cazzo l'ho detto, siamo su Marvel Snap, Marvel, solo questo vi fa capire che si parla di supereroi ragazzi Ok andiamo a vedere un po', laboratorio miniaturizzato, durante il terzo, quarto e quinto turno non si possono aggiungere carpi in questo campo Abbiamo capito dagli scorsi video che bisogna andare sempre a destra, anche per altre cose nella vita bisogna andare a destra Solo che c'è alcuna gente, eh, mo questa è una cosa un po' che non tutti capiranno, però bisogna andare sempre a destra Stark Tower, dopo il quinto turno più due forza a tutte le carte posizionate qui Ok io non posso piazzare niente adesso, quindi vado oltre, andiamo al terzo turno già Stanno sei turni in totale Io mi sto spostando, non lo so se mi sentite, ok Mi mette Ark Wheels Questa è stanza del pericolo, le carte giocate qui hanno un 25% di possibilità di essere distrutte Madonna ragazzi Io The Punisher non lo metto Mettiamo il ciclope, ragazzi, eh, mo qua non possono essere più posizionate le carte, quindi per forza al centro Sto partito la vedo abbastanza male Mettiamo sto ciclope, vediamo come va Lui mette Medusa Sto ciclope che faceva, boh Se ci metto Jessica Jones Ok Vai Jessica Jones, dobbiamo giocare una carta nel prossimo turno E ci dà più 4 di forza The Punisher dà più forza alle mie carte E che ci mettiamo Kazar qua Più 1 forza tutte le carte di costo 1 E nessuna costa 1 Ci mettiamo Iron Man, sta a posto, no? Vai Fine del turno Forza raddoppiata Vai Vi metto Abomination Vai Ma che cazzo è successo, ragazzi? Ma come faccio a doverci 28 di forza Io ci metto pure Hulk Vai Fine del turno decisivo Qua la forza è andata proprio su Ma di brutto 52 punti E lui pure 50 La madonna Voi vede che ha vinto lui No, ho vinto io, meno male Madonna e che partita, raga In teoria dovevamo essere pari Perché tutti e due abbiamo 54 di forza Però ho vinto io Interessante Possiamo potenziare La cosa Ah, ecco perché non riuscire a leggere Cornice in franta Abbiamo sbloccato una nuova carta Il corvo notturno Penso Non credo però Vinci un campo con 20 di forza La madonna 54 abbiamo fatto Abbiamo altre missioni anche Completa una missione giornaliera Ok, abbiamo anche un pass stagionale Qua 100 di oro Una ricompensa del pass E il deck va bene così per il momento Andiamo subito nella prossima battaglia Io mi chiamo Franco Hop Aggiungetemi agli amici Non so come si fa però Fate voi insomma Se avete Marble Snap Mi chiamo Franco Hop Come su Youtube Le abilità Effetto continuo In questo campo Sono raddoppiate Non so se conviene Io sembro a destra Vado Alla fine poi Le carte a destra Nello scorso Partita Non mi sono state distrutte Mi sembra Lui mette Mystic Mystic Knight Al quarto turno Si trasforma In uno degli altri campi Ok Non possiamo piazzare niente Andiamo subito Al prossimo turno Lui mette Star Lord Allora Ah Aggiunge Ninja Su ogni lato Con meno 2 di forza Ok E ci vado a mettere Mr. Fantastic Ma lo aggiunge Solo muovo Ad ogni mano Alla scoperta Più 3 Forza Se il tuo avversario Ha giocato una carta In questo campo Durante il turno Ok Buono Mr. Fantastic Ok Buono Buono Che non ho messo Carte Di là Vediamo un po' Se ci metto Sentinel Al centro Ma è meglio Se ci metto Questo qua Così ma aumenta La forza E pareggiamo Anche con il campo Di sinistra Che Ho lasciato Senza niente Dovrebbe Dovrebbe essere Tutto paro Se ci mettiamo Cazzar Qua Mi sa che non Conviene Facciamo così Buttiamo di qua Va Ci ho messo Cazzar Alla fine Manco L'avevo visto Vabbè Penso che ho fatto Bene lo stesso Lui si è potenziato Tantissimo Però Eh Murillo Ci ho messo Cazzar Qua Mo Ci vado a mettere Hulk E dovrei Vincerla Tranquillamente Questo Che c'ha Hulk Ah niente Spacca tutto E basta E vai al centro Fine turno decisivo Vediamo lui Che mette Metterà pure lui Hulk Se mette pure lui Hulk Ha vinto Non ha messo Hulk Ce l'abbiamo Fatta Ragazzi Wow Possiamo potenziare Spectran Cornice Infranta Bellissimo Ragazzi Carino Sto gioco Niente di che Però Mi sta a prendere Bene Diciamo Ok Andiamoci a fare L'ultima partita Già stiamo a 8 minuti Di video E il tempo Passa subito Ragazzi Io c'ho sempre Questo De prima mano A me Chi subisce La sconfitta Perderà Un cubo E a me Che cazzo Me ne fotte Più uno Forza Dopo ogni turno Le carte In questo campo Vai Allora Se buce A sinistra E al centro Stavolta Madonna Lui a tutti i campi Si è messo le carte Io ci metto Sentinel Vai Tutto a sinistra E al centro In questa Partita Mi richiamo Un'altra Sentinel E per adesso Sembra andare Abbastanza bene Al quinto turno Ah Al quinto turno Tutte le carte Devono essere Giocate qui E allora Tocca potenziarci Subito Conviene andare Un altro Sentinel Così poi Ci mettiamo Tutto al centro Mi richiama Sentinel Ok Più 4 Se non gioco Più una carta In questo campo Nel prossimo turno Se non mi inganno La memoria Dovremmo andare Ad 8 Se non giochiamo Una carta Nel prossimo turno E infatti Non la giocheremo Quindi vai Ahia Lui ci mette Parecchio Però al centro Lui si è ben potenziato Se pensi di perdere Getta la spugna E ritirati Ma al momento Non è necessario Ok No Chi si ritira Comunque le carte Devono essere Giocate tutte qua Quindi ci mettiamo Sto coso Io intanto A sinistra Mi sto potenziato Tantissimo Così Senza che me ne so Accorto 6,6,12 Ma vai Ma che cazzo Me ne fotta a me Lui pure Cos'è potenziato Parecchio Madonna Ragazzi Che partite Che abbiamo Giocato Non possiamo Potenziare The Punisher Epico Raga Abbiamo pure La ricompensa Del pass Colossus Questa carta Non può essere Distrutta O spostata Nel ricevere Una riduzione Della sua Forza Raga Questa è Epica Io Non so Se ci stanno Le rarità Però ci dobbiamo Togli Immediatamente Sto coso Qua Che non Mi piace Quindi Rimuovi E ci mettiamo Colossus Epico Raga Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Lascia un bel Mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Domani Con un nuovissimo video Ciao